Tra i saperi che documenta l'etnobotanica vi sono anche quelle che noi chiamiamo le TEC, le conoscenze ecologiche tradizionali, perché dietro a questo rapporto intimo con l'ambiente delle comunità rurali, con le piante soprattutto, vi sono anche conoscenze di natura ecologica, cioè saperi, esperienze, pratiche che sono fondamentali per capire poi come funzionavano questi agroecosistemi tradizionali. Ecco perché è importante documentarli, perché se vogliamo pensare a percorsi di recupero di questi anche paesaggi, perché è una questione oggi, perché un paesaggio poi ha un riflesso anche da un punto di vista sociale, se noi vogliamo recuperare questi paesaggi c'è bisogno di questi saperi legati alle culture locali, altrimenti dobbiamo accettare l'idea che il bosco si riprenda tutto il gargano o si riprendano tutte quelle aree che abbiamo marginalizzato, perché l'agricoltura la continuiamo a fare poi nei campi ottimi, migliori, pianeggianti, dove si può meccanizzare, però questo dobbiamo sapere che cosa comporta, c'è questa uniformizzazione anche del paesaggio, avere un unico bosco. Conseguenze che poi possiamo pagare in termini ecologici, ambientali, ma li paghiamo anche in termini culturali, perché avremo realizzato condizioni in cui ci sarà un abbassamento, una perdita di queste bioculture che hanno strutturato poi le economie dei territori.